Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Anticipazioni puntate dal 26 al 29 giugno. Unkar convince Demir a non vendere la raffineria agli uomini di Ankara e a ritirare le accuse contro Zuleyha cosicché lei possa uscire di prigione e rivedere i propri figli. Ma una volta tornata alla villa, Zuleyha viene costretta da Demir a fare la cameriera. Alla notizia del rilascio di Zuleyha, Beice inizia a insinuare nella testa di Mujgan il pensiero che la donna ammina il suo futuro e quello della sua famiglia. Mujgan, però, si rende conto che sono le continue insinuazioni della zia ad averle fatto perdere la ragione e le dice di tornare a Istanbul. Zuleyha racconta a Unkar che Beice ha provato a ucciderla durante il suo ricovero in ospedale. Infine Beice consegna a Mujgan una finta lettera in cui Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Il contenuto della lettera allarma Mujgan, che decide di uccidere Zuleyha. Mujgan minaccia Zuleyha con la pistola, onde evitare di finire in prigione, vuole che la sua rivale si impicchi da sola. Zuleyha si rifiuta e cerca di disarmare Mujgan, ma nella colluttazione parte un colpo, che ferisce Zuleyha al petto. Aiutata da Beice, Mujgan inscena il suicidio di Zuleyha e scappa. Alla tenuta, tutti cercano Zuleyha. La trova Rasit e Zuleyha viene trasportata in ospedale. Uzum confessa a Unkar di sapere dove si trovano Adnan e Leila e la porta a casa di Sevda, la donna che è stata per anni l'amante di Adnan, marito di Unkar. Unkar, sconvolta, dice a Demir che non vuole mai più vederlo, prende i bambini e li riporta alla villa dove apprende delle gravi condizioni di Zuleyha. In ospedale, Demir e Yilmaz vanno a trovare Zuleyha, ancora incosciente dopo l'operazione che le ha salvato la vita e i due si scontrano davanti agli occhi di Mujgan.